La straordinaria esistenza di una donna che ha dedicato la vita al prossimo, raccontata in un documentario esclusivo. Il rifugio delle anime, storia di Natuzza Evolo. Testimonianze, interviste e la meraviglia della Basilica di Paravati, che ha preso forma dalle sue visioni. Una produzione Studio Colosseo, in collaborazione con Rai Documentari, da un'idea di Pino Nano e Maurizio Pizzuto. Disponibile in esclusiva su Rai Play.